Eccoci qua, oggi siamo qui a parlare, come avete visto dal titolo, di questa applicazione che si chiama Streamlabs. Cosa fa questa applicazione? Praticamente fa lo screencast del nostro display cellulare e potremo fare una live di quello che si vede sul display del nostro cellulare. In questa occasione io userò questa applicazione per fare le mie riprese col drone, col drone che ho un DJI Mini 2 che consiglio anche se è un po' vecchiotto ma io non lo venderò mai perché oltretutto ho trovato un'applicazione che posso usufruire Follow Me che non è la DJI, l'applicazione originale, è un'altra applicazione. Comunque se volete sapere l'applicazione che uso con il Mini 2 potete scriverlo nei commenti o se no poi più avanti lo farò automaticamente io. Comunque non voglio divagare troppo, l'applicazione si chiama Steamlabs, eccola qui, si trova nei rispettivi store sia Apple che Android, scarichiamola e una volta scaricata ci chiederà di accedere con i nostri account YouTube, Facebook o Twitch e c'è un altro rispettivo modulo che è l'RTMPH, quello è un po' più particolare però se volete anche in quel caso una delucidazione maggiore di questa tipologia di trasmissione vi farò un video a parte. Comunque oggi farò un video per quanto riguarda YouTube. In tutte le occasioni bisogna avere già in Facebook bisogna avere una pagina aperta e avere già dei follower dentro il nostro canale o dentro la pagina. Comunque niente, sigla e poi vi spiegherò a video come si fa le prime impostazioni molto veloce, pratica, immediata e così da essere aperta immediatamente in qualsiasi posto noi siamo e praticamente con tre clic parte già da live. È veramente una cosa molto pratica e veloce. E comunque se vi piacciono questi contenuti perché non mettere un bel pollicino in su e iscriversi al canale così da potermi far crescere un po' a me come canale e niente. Insomma, sigla e Streamlabs! Ecco, ora io userò il collegamento a Windows per farvi vedere da cellulare cosa uso. andiamo nella sezione app, cioè al mio cellulare LS24 Ultra, andiamo nel mio cellulare e andiamo a trovare l'applicazione Steamlabs, eccola qui. L'apriamo, ora si aprirà il dispositivo, mi chiede di sbloccare il dispositivo. Avviamo adesso, praticamente io ho già installato, bisogna installarla, andare nel nostro rispettivo store e questa è già l'applicazione. Potremmo, come vedete, ci sono dei pulsanti qui bassi, potremmo azzittire tramite il microfono o andare direttamente alla live. Però prima di andare qui vi faccio vedere queste tre linee dove ci sono delle impostazioni. Inizialmente sarà così, poi se volete c'è anche la versione a pagamento che ci sblocca alcune cose, però potremmo farlo anche senza comprare niente. Qui c'è le scene, cliccando su questa scena ci sono le scene in default, se no potremmo crearne una a noi, come ho fatto io, DJI Mini 2, ok? Che praticamente salva solo lo screen share, se no potremmo mettere anche la fotocamera frontale. Vi faccio un esempio, se io ora vado qui e edito, lui come vedete ha solo lo screen share, però se vado su layer, io qui potrò aggiungere un layer e ci ho varie opzioni, che volete provatele, una come ho fatto io, provate, potremmo aggiungere la camera. Io faccio un esempio, aggiungio la camera, ok, got it, non scende. Questa è back camera, la telecamera posteriore, ok? Quindi in un riquadrino ci sarà anche la telecamera posteriore. Vi faccio vedere, salva. Ah, l'ha fatta tutto schermo, quindi bisognerà ridimensionarla. Selezioniamo la back cover, la back camera, scusate, e con questi quadratini la rimpiccioliamo nella misura che vogliamo, ok? E la mettiamo, che ne so, qui da una parte. Ora, e facciamo salva. In maniera tale che io ora, quando vado a richiamare la mia scena che ho creato, che basterà andare qui su questo rettangolino e selezionare la nostra scena che abbiamo. Io attualmente ho DJI Mini 2, seleziono questa, me la prende. Ora, per potere, si può girare sotto sopra, ma ora non lo vedete perché qui il collegamento a Windows me lo fa vedere solo in verticale, in orizzontale, per poterlo vedere, dopo in live vedremo. Anche che semplicemente che facciamo? Una volta installata l'applicazione andiamo avanti, facciamo, ci chiederà con quale social vogliamo fare la live e andiamo su go live e io faccio YouTube, facciamo next. Allora, questo active event vuol dire che continuiamo un evento già esistente, ok? Abbiamo fatto una live e continuiamo a fare una, stoppiamo e poi ricontinuiamo a fare la live. questo è praticamente parte dopo, diciamo, la registrazione parte dopo un evento spreciso di un giorno specifico o se no andiamo a creare un nuovo evento, un nuovo evento in questo momento, create event. Andiamo su next. Ora qui facciamo un titolo e lo metto DJI, ipotesi. Facciamo private, così, prima di fare, diciamo, fate delle prove. Una volta che avete trovato il giusto come muoversi nell'applicazione, fate public e sarà pubblicata a tutti. Poi deciderete voi tramite il canale YouTube a chi è rivolto, se è ai ragazzi, insomma, lo sapete meglio che di me. La schedula è now, ora, in questo momento, se no potremmo dare una data, un'ora precisa, quando partirà e potremo creare un, diciamo, un pop-up dove nei nostri canali potremmo avvisare che quel determinato giorno e ora ci sarà una live di quello specifico evento. Una volta fatto questo, facciamo go live. e ora fa ricarica, ora poi lo, lo, ora guardiamo dal cellulare, apro l'applicazione dal cellulare, e aspetta, vabbè, apri l'app qui, mi dice, apri l'app qui, ok. e ora dovrebbe partire l'evento, l'evento, partiamo, è partita la registrazione, ora per vedere la registrazione vera e propria bisogna andare su inizia, torniamo indietro, e vediamo che è già iniziata. e l'apriamo e andiamo a vedere la live. Ora, prima che venga la scritta, vi faccio vedere l'avviso, a video, cosa che vi fa vedere. Vi fa vedere gli FPS, vi fa vedere l'intensità del segnale, vi fa vedere le persone che stanno vedendo il video, e i minuti che sono trascorsi, i secondi e i minuti, e i kilobyte, diciamo, del video. Viene trasferito in 720p, come ora vi faccio vedere appena parte, mi fa andare sulle opzioni, qui, sulle opzioni, vediamo che la massima qualità attualmente per la live è 720p, non si può andare oltre, va bene? Anche se impostiamo 1080p sull'applicazione di Streamlabs, vedremo che la live verrà inviata a 720p, ma vi faccio vedere che si vede benissimo. Ora, io vi ho fatto vedere quello che si vede a video, si vedono il minuto che è trascorso, la persona che sono io attualmente, che vedo il video e la live, diciamo, gli FPS a cui va, l'ho impostata a 30, il segnale Wi-Fi e i kilobats, per fare il video. Ora io apro l'applicazione DJI, che ho già aperto, accendendo il mio drone e tutto, vedremo che sono in diretta col mio drone. Io sto facendo una live, e potrò praticamente, ora mi inquadro io, potrò praticamente fare la live di un evento con il mio drone, e fare, diciamo, quello a cui ho voluto, perché ho voluto fare questa live. Ecco, io non ho trovato applicazioni così veloci per fare una live col drone, e questa live, praticamente, oltre a fare la live, salva il video, quindi in un secondo momento potremo fare anche un editing veloce del video. Però, se vogliamo, siamo in un posto particolare, siamo in un evento, vogliamo far vedere un posto particolare, potremmo fare una live di noi che siamo in quel posto. Era per, con questo Stream Lab, se è possibile fare anche la live di un gioco. ecco, è partita la registrazione del gioco. Ora vi faccio vedere. Ok. Ora, tra un po' partirà l'immagine. È uguale. Ora ho impostato la fotocamera di fronte, che mi vedrà il viso, e poi il gioco. Ora vado ad aprire il gioco. Ora, fra un po' partirà la live. Ora farò una partita così veloce con un eroe. Questo è uno dei Battle Royale che uso sia sul cellulare che sul PC. Ve lo consiglio per passare un'oretta per divertirsi. E questo è come fare una live del gioco direttamente di un gioco. Ecco fatto. Ora inizierò a giocare, ma vi faccio vedere com'è la trasmissione. Sto muovendo velocemente lo screen. Perfetto. Perfetto. Io sto andando alla grande qui non mi lagga neanche il cellulare. Perfetto, perfetto. No, no, no. Va benissimo. Ripeto, io ho un S22 Ultra. ecco fatto. Chi è? Chi è che spazio? Dove sei? Perfetto, dai. Questo è come fare una live di un gioco. posto. Aspetta, vediamo se... Fuori uno. ecco fatto, ora la stoppo, ora vi faccio vedere un'altra tipologia di live questa è come farvi vedere come poter utilizzare questa applicazione e ora vi faccio vedere già c'è la live dell'ultimo, sta partendo e questa è una live in diretta della persona con la fotocamera davanti, sono in un posto, voglio far vedere con il mio stand, il bastone per intendersi, voglio far vedere dove sono, mi giro nel mio locale, nel mio posto, faccio vedere dove sono ecco qua, ecco l'applicazione, questa applicazione è in live a 720p, ripeto, queste le tre tipologie di live che si possono fare, ho fatto un esempio di quello che si può fare con questa applicazione e niente, qui ho uno stand che mi tiene il cellulare, poi lo posso portare ovunque è uguale, ho fatto uguale, diciamo, sono andato le tre lineette, ho creato la mia scena, l'ho chiamata live, live e ho messo la fotocamera anteriore come a tutto schermo, allargando il quadratino, ho fatto tutte le prove, è semplicissima, è molto intuitiva e si riesce a capire, a capire molto bene l'applicazione, diciamo, ha debug, non è proprio fluidissima delle volte, quindi vi consiglio delle volte di chiuderla, di arrestarla se non dovesse partire e farla ripartire o nel mio caso addirittura ho dovuto disinstallarla e poi installarla di nuovo, fatto ciò è ripartita l'applicazione, comunque diciamo che si risolve in poche tempo, diciamo, questi piccoli bug che c'è, è molto semplice, intuitiva e può essere usata in varie tipologie di soluzioni, ecco fatto, ecco prima di arrivare alle conclusioni, vi voglio dire che quando avviate la, prima che avviate la registrazione della live dal vostro cellulare, sarebbe opportuno silenziare le notifiche, perché come è successo a me, mentre facevo una prova in live, meno male era una prova, mi sono arrivate una marea di messaggi chiamate, vanno silenziate le notifiche in maniera tale che quando siete in live non vi diano fastidio alla live stessa, ok? ora alle conclusioni ho voluto fare un video diverso, perché questa applicazione l'ho voluta, avevo voluto fare un video perché è molto veloce, pratica, una volta registrato su YouTube, Facebook, diciamo le piccolezze iniziali, una volta poi che siamo fuori e vogliamo fare la nostra live, in tre tapp parte la live, io faccio un esempio, con il mio drone è stato velocissimo, cioè ci ho messo veramente tre minuti a aprire le applicazioni e partire diciamo la live, ecco con questo il video è finito, come vi ripeto praticamente se volete far crescere me e il mio canale un pollice in su e mi potrete anche iscrivere, non vi costa nulla e sarete sempre aggiornati su questi video che vorrò fare, oltretutto vi dico che il mio drone è un DJI Mini 2, a cui sono almeno molto affezionato e non venderò mai perché ho trovato oltretutto un'applicazione non la DJI Fly che sto usando ora in live, è un'altra applicazione a chi fosse interessato potrò, me lo scriva nei commenti se volete sapere l'applicazione che uso, che con questo drone potrò usare follow me e non solo, potrò fare il circle, cioè girare intorno a me e con un'applicazione, ora più avanti forse farò io un video automaticamente, però se siete interessati scrivetemelo nel commento qui sotto e niente, ora stoppo la live e niente, vi faccio vedere che funziona tutta alla grande, da un'applicazione a quell'altra, una volta aperto di nuovo Streamlabs vedremo quanto è durata la nostra live, è durata 5 minuti e 40, c'è uno spettatore che sono io e continua, basterà premere stop e la live si fermerà e rimarrà, diciamo, il video rimarrà praticamente memorizzato nella live, nelle live qui sul proprio canale e ci sarà scritto il giorno, ora è privato, si potrà spostare se in pubblico o fare un altro video. Ciao, non voglio ripetermi ma è inevitabile non iscriversi e mettere un bel pollicione in su per essere sempre aggiornati. Ciao! Grazie No 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 Cocoon No Grazie a tutti